Sì, in campo c'è una squadra più molta energia, più due, molto voglioso di vincere, alla fine forse abbiamo conciuto un po' con la testa e si doveva scappare in via, non con la parità punto a punto e lottata proprio ogni secondo. Cosa abbiamo fatto secondo te, aspetto alle altre parti di teoric? Su me questa pentatua ha già dato un po' il fatto della concentrazione, questo è un po' di ventilazione alla fine, un po' di riuscita. L'energia anche, questo è di testa secondo te? Perché parla bene, siamo di... Sulla occupazione come la giudicchi? Sì, però poi abbiamo perso, quindi è da rifare, comunque ho deciso di portare la squadra a vincere e quindi per la stessa volta si deve anche portare i punti a casa. Sì, rispetto, come ti senti adesso con questa squadra? Quanto ti senti bene di questa squadra? Come la vivi? Sicuramente, molto bene, sono molto contento, i compagni, ripeto, super, vedo anche che il corso mi ha fiducia e quindi sono più tranquilli nel campo, molto più tranquilli nel campo. Senti, la schiacciata che hai sbagliato, per quanto devi dire sbagliato, perché ti sei abbassato perché avrei pure di sbattere la testa? No, mi scivolato la palla, ero bagnato sulla mano, la palla invece che tenerla mi è scivolata e quindi l'ho appoggiata con... Sì, perché hai rischiato di rimbattere la testa? Non mi sono mai tracorta, è rinicino, prima cosa succederà. No, 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 ti è, non eravamo io a prima. Lei è in data proprio... Bastarlo. Senti, adesso quindi penso che toglie le ricerche. La tua ha ripartite per l'ultima partita che è... Sì, sì, ripartiamo con la stessa video, la stessa video di vincere. Una partita aperta ci sta e proprio unici consecutivi del limite si sa anche perdere. L'ha messo in conto e adesso ricominciamo da una settimana normale. Senti, c'è una squadra che teme di più delle altre come playoff. Tu, personalmente, devi andare. Senti, secondo me, se noi giochiamo con grinta e energia... e stai andando al mondo di te, ciò faccio. Non devi mantenere nessuno. La squadra è forti. Cioè, non vuol dire che siamo fortissimi, quindi non deve portare nessuno. No, la squadra è forte, deve essere Torino, deve essere Bersendona, Verde... anche Verona, Trento... Però, se noi giochiamo con un'intensità, energia e lucidità, possiamo cercare di combattere tutto. E la squadra che ti ha più impressionato con questo campionato? Altrimenti sto facendo un campionato super. Anche il numero di Parma, è rimasto sempre in testa e... Anche Verona l'ha fatto, sì, anche Verona, è venuta fuori bene in questo periodo. Altro? Niente? No. Sono poco. Grazie. Grazie a voi.